Siamo qui per parlare, 75 non va bene, togliamo 75 e questa è una cosa, ragione, se siamo tutti il problema è che togli il 75 e vanno il 65, no, voglia il 65, non credo, c'era l'insultato, proviamo, 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 proviamo a togliere il risultato, proviamo a togliere il risultato, proviamo a togliere il risultato del 75 e il risultato, va bene, e quindi chiaramente le mani aperte, allo sconere dei termini che fa previsti, le persone senza 75 inserite nel progetto di vita che per te potranno essere mantenute, previa valutazione, no, non è così, guarda, no, 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 va, si è scambiato, perché c'era scritto prima, che saranno rivalutate, invece che si scrive con precisione, potranno essere mantenute, quindi si merite, come prioritario e devono essere mantenute, salvo valutazione diversa. E quelli che si è detto l'altra volta, che deciderono di entrare con più di 65 anni? Lei aveva detto anche di quello? Perché se io ho 63 anni e ce la faccio ancora, è una disabilità da una vita, da una vita, se io ho 63 anni e sono disabili a una vita, con le fatiche che vuol dire essere disabili a una vita, e decido che non ce la faccio più a 66 anni, eh? Per quale motivo mi deve essere meglio? Allora faccio la domanda prima, vi prego, perché prendo soldi che non... Scusate, io però questa cosa per le registrazioni non si parla o tranquillità, se volevo ragionare, perfetto, io pregherei che smettere con questo... Grazie! Grazie!